Monta la protesta tra i commercianti di Montesilvano per i lavori di riqualificazione lungo corso Umberto. Il cantiere rischia di trasformarsi in una mannaia su negozi ed attività. Chiediamo con estrema urgenza un incontro con il sindaco, affermato la presidente di Confesercenti Pescara, Marina Dolci. Dal canto suo, il sindaco Ottavio De Martinis ha annunciato che già in settimana incontrerà i rappresentanti dei commercianti per ridurre al massimo i disagi. Intanto va rimarcato quanto il progetto sia proprio frutto di una interazione e di una collaborazione tra l'amministrazione comunale, Confesercenti e altre associazioni di categoria. Noi abbiamo sposato l'idea di un corso Umberto che sia molto più vivibile, molto più importante dal punto di vista della viabilità sostenibile. E ovviamente all'inizio del percorso avevamo insieme a loro ragionato una serie di iniziative che avessero nel futuro portato giovamento, soprattutto per gli spazi parcheggio che con questo progetto andrebbero a scomparire. E devo dire che dall'inizio del percorso già tanto si è fatto e tanto si farà. Ci sono sei mesi di lavoro all'orizzonte e c'è tutto il tempo per portare avanti una serie di iniziative che, ripeto, sono state concordate con Confesercenti, con la quale peraltro in settimana mi rivedrò al fine di ragionare sullo sviluppo di questa arteria durante i lavori e successivamente ai lavori. Signor Sindaco, il cantiere in questa fase sta interessando il lato più a nord di Corso Umberto. Successivamente come si svilupperà? Sì, si è partiti come del resto avevamo anche detto più volte dal lato più a nord per poi proseguire subito dopo con un tratto che arriverebbe alla via Vestina per partire poi successivamente, una volta realizzato questo spazio, con i lavori all'altezza delle rotatorie che verranno abbattute per lasciare sposto a una sola rotatoria e per poi ultimare arrivando fino a Via L'Europa e mi auguro, perché nell'idea c'è anche questo, di arrivare fino a Via Ruffilli. Quindi stiamo andando per step, cercando di arrecare meno disagio possibile, ma è evidente che quando si fanno dei lavori insomma un disagio c'è, però devo dire che in questi giorni né i cittadini e né altri commercianti se non quelli che lamentano, come dicevo, semplicemente delle posizioni di alcuni segnali e quant'altro hanno dato spazio a polemiche.